Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate passando tre belle giornate. Ragazzi, dobbiamo parlare di una situazione che negli ultimi giorni si è un po' evoluta in maniera differente. Sapete bene che sono arrivate delle comunicazioni dal lato ovviamente medico per quanto riguarda la Juve che riguardano ovviamente Federico Chiesa. Sapete che Chiesa purtroppo ha avuto questo infortunio che gli ha un pochino frenato la carriera da Juventus, nel senso che ritornerà. La Chiesa era lanciatissimo, purtroppo questo infortunio l'ha fermato, ma Chiesa ritornerà. Sono sicuro che ritornerà come prima, però c'è bisogno di tempo perché purtroppo ragazzi l'infortunio di Chiesa è stato abbastanza duro, è stato abbastanza pesante, invalidante, tosto, è stato lungo, quindi purtroppo è stato un infortunio da cui tu devi recuperare piano piano. Non puoi forzare il rientro. I medici si sono raccomandati tanto con la Juve, dice state attenti perché rientrerà probabilmente verso settembre-ottobre, ma dobbiamo stare attenti perché non bisogna forzare il rientro, perché se tu forzi il rientro rischi ancora dei problemi fisici importanti. Quindi la Juve deve prendere anche un'altra ana e la deve prendere perché essenzialmente, ripeto, Chiesa non sarà disponibile almeno all'inizio e la Juve continua ad avere contatti con Kostic. Cerchiamo di capire un pochino quello che succede. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati. Mi raccomando a questa cosa, ragazzi, senza campanella non vi arrivano i video, perdonate l'abbassamento di voce, e in descrizione trovate ovviamente il link di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, è gratis, e poi trovate ovviamente pure i miei link social, quindi se vi va venite a trovarci sui social. Allora, discorso un po' diverso rispetto al solito. Juventus ha cominciato ad avere contatti con Kostic già qualche tempo fa, in realtà Kostic la disponibilità alla Juve l'ha data, avrebbe già detto sì alla Juventus, la cosa che mi preoccupa è un'altra, nel senso che bisogna valutare bene le situazioni. Premessa, questo è un mercato che secondo me la Juventus farà e cercherà di realizzare in una maniera più semplice possibile, ma è un mercato che purtroppo mette a dura prova tutti, coloro che lavorano lì, perché l'anno scorso che Rubini arriva bene, aveva tra virgolette la scusa, tra virgolette ovviamente, di avere essenzialmente un mercato influenzato molto dal problema delle finanze della Juve. Comunque la Juventus aveva una situazione economica molto differente, non c'era stato nessun aumento di capitale, c'erano stati problemi insomma vari, quindi la Juve ha fatto un mercato che oserei dire non è stato da Juve, è arrivato Locatelli, che è arrivato tra l'altro in prestito BNR gratuito, quindi tu per i primi due anni non hai pagato niente, è arrivato Ken, che con tutto il rispetto insomma non ha confermato quello che insomma volevamo da lui, è arrivato Caio Iorghi, che comunque è un giocatore che con tutto il rispetto possibile e immaginabile si è anche fatto male, quindi non abbiamo potuto giudicare, e quest'anno invece c'è tanto da fare, perché quest'anno tu devi andare a prendere un'ala destra, devi andare a prendere un'altra ala perché ti serve, devi andare a prendere un Vicevlaovic, devi andare a prendere due centrocampisti, devi prendere un giocatore importante come ad esempio un difensore che vada a sostituire i chiellini, un terzino sinistro, quindi c'è tanto da fare. E quest'anno si vede bene il valore di Cherubini e arriva bene. Quindi con Kostic bisogna stare attenti. Kostic è un giocatore di 29 anni, è croato, è un giocatore che secondo me ha fatto una delle stagioni insomma migliori della sua, insomma abbiamo visto una stagione di Kostic straordinaria, è stato eletto insomma anche miglior giocatore MVP ragazzi, ovviamente dell'Europa League, ha vinto l'Europa League, è un giocatore che può giocare sia a sinistra che in altre posizioni del campo, può giocare in un centrocampo a 4, può giocare in un attacco a 3, può giocare un po' ovunque. Cosa vi ho detto su Kostic la scorsa volta? Ragazzi se prendi Kostic ti devi rendere conto che non vai a prendere un top player. Nel momento in cui tu vai a prendere Kostic ti devi rendere conto che non è un top player, perché se tu non ti rendi conto di questo rischi di rimanere deluso quando e se questo ragazzo deciderà di arrivare. Quindi questo ragazzo non è assolutamente un top player, è un ragazzo di 29 anni, di fatica, un buon giocatore che ti spinge, che ti salta l'uomo, ma non ha il tempo di invenzione, di gioco, di, più che di gioco e di invenzione, se vuoi dire non ha il tempo di classe di un giocatore che ti fa la giocata. Faccio un esempio, Di Maria e Kostic, ok? Sono due ali, uno c'ha 29 anni e l'altro c'è da 34. Di Maria è stata una delle ali più forti della sua epoca, ok? Ed è ancora oggi un'ala fortissima. Ora, tra Di Maria e Kostic, chi ce l'ha più possibilità di risolverti una partita con una giocata? Di Maria. Di Maria. Se tu cerchi un giocatore che ti risolva la partita con la giocata, tu ti prendi Di Maria, per esempio. Se tu invece vai cercando un'ala come quella che cerca la Juve, cioè un'ala di corsa, che vada a sostituire Chiesa, che sia sostituito di Chiesa nel breve periodo, che ti corra, non un fuoriclasse assoluto, ma un buon giocatore. Allora, in quel caso devi apprendere Kostic, che è un giocatore che comunque corre, difende, apre, aumenta, si inserisce. È un giocatore che ha varie qualità. Più che qualità, tra l'altro ha anche qualità di vera, nel senso che sa calciare in porta, sa passare in verticale, sa dribblare l'uomo, sa comunque andare, anche sui duelli aerei, nonostante non sia enorme, comunque riesce ad arrivare molto bene. È un giocatore di grande qualità a livello tattico, perché riesce ad essere molto intelligente. Quindi è un giocatore che ha delle qualità importanti. Ma non è assolutamente un fuoriclasse. Non è assolutamente un fuoriclasse. Lo paghi circa 16 milioni di euro. Quella è la cifra chiesta dall'Eintrac. La Juventus cerca di andare a ribasso, di prendere qualcosina di meno. Il giocatore, la disponibilità, la Juventus, la data, dipende tutto poi da come tu essenzialmente vuoi gestire il mercato. Io voglio dire solamente una cosa su un discorso generale, perché di Kostic credo di aver parlato già abbastanza, anche nei video vari, e di avere... Io voglio dire solo una cosa. Cerchiamo di capire che questo è un mercato che ci porterà ad iniziare il campionato un po' prima. Perché questo è un mercato che purtroppo ti porta poi ad iniziare il mercato, ad iniziare la stagione un po' prima. Ok? Tu inizi molto prima quest'anno. Perché ci sono i mondiali, eccetera, eccetera. Non ci presentiamo al 14 di agosto con la squadra ancora in corso. Cioè, perché c'è un ritiro, c'è un tour, c'è comunque un insieme. Prima tu dai i giocatori all'allenatore, prima l'allenatore può cominciare a lavorare. Non ci presentiamo il 14 di agosto, cioè non ci presentiamo il 14 di agosto, se non sbaglio, il 14 di agosto comincia il campionato. Non ci presentiamo all'inizio della stagione con la squadra mezza disfatta. Quindi, prima del 14 agosto, prima del 14 agosto, bisogna che la squadra sia pronta. Mi puoi lasciare per il 14 agosto qualcuno meno importante? Tipo il vice Vlaovic lo prendiamo alla fine. Cercando di capire se Morata può essere riscattata a un prezzo inferiore, se Morata fa quella cosa che vi ho detto. Cioè, cerchiamo di capire che se fa con Ken, con Morata, alla fine te le lasci per ultimo, perché quelle sono cose un po' meno importanti. Però, quando tu parli di rosa principale, e questo lo dico a prescindere da Kostic, io mi auguro che per agosto sia tutto pro. Cioè, al primo di agosto, la squadra deve essere pronta, ragazzi, perché poi noi cominciamo subito la stagione. Se tu al primo d'agosto mi arrivi senza ala, senza centrocampista, senza terzino sinistro, posso dire che per me sarebbe una delusione. Lo voglio dire adesso per dopo, perché poi non voglio che mi si venga detto, eh no, Matt, però tu avevi detto che ci serviva... Sì, serve tempo e tutto quello che volete, ma bisogna darsi una mossa, eh, ragazzi. Perché, ripeto, quest'anno si inizia prima non ti presentare il 14 di agosto con i giocatori... Cioè, non ci presentiamo con il 14 di agosto a giocare un'altra volta con Rugani in difesa, con Aleksandro Terzino titolare, perché veramente faccio una di quelle veramente impressionante. Cioè, non dobbiamo fare questa cosa. Tornando al discorso relativo a Kostic, il giocatore vale quello che sicuramente l'Eintracht chiede. È normale che laddove tu possa, diciamo, togliere qualcosina, togli, no? È normale, se è un giocatore che posso pagare 14 anziché 16, perché te devo regalare i soldi? Ti prendo 2 milioni e li tolgo. Il discorso è... La trattativa su Kostic c'è già, perché Kostic ha detto già sì alla Juve. Il problema è che su Kostic ci sono anche altre squadre. E Kostic la disponibilità l'ha data un po' a tutti, perché sto giocatore si è girato e si è trovato la Juve, si è trovato squadra di Premier, sì, sì. Tranquillo, voglio andare via dall'Eintracht, perché voglio andare via, perché voglio trovare una squadra che punti su di me, perché voglio trovare una squadra molto più importante, perché voglio trovare una squadra che... Voglio trovare comunque una squadra, come ti posso dire, che sia importante per me, una squadra che mi dia l'opportunità di vincere qualcosa, cioè qualcosa anche di più importante rispetto all'impresa che ha fatto l'Eintracht. Che comunque, raga, l'Eintracht ha fatto un'impresa vincendo l'Europa League, perché chi si aspettava che l'Europa League venisse vinta dall'Eintracht? Io personalmente ci avrei scommesso pochissimo a inizio dell'anno. Però, il discorso è, chi stai prendendo? Ripeto, perché se tu dici, Matt, io Kostic non lo voglio, io ti avviso che a sinistra lì o prendevi Perisic, che al momento in cui il giro sembra direzionato altrove, o prendi Kostic, perché il resto che tu puoi nominarmi o costa una marea di soldi e la Juve non vuole spendere tanto in quella posizione, oppure ci sono problemi relativi al trasferimento, perché forse sono giocatori che non sono cedibili. Cioè, giocatori decenti a sinistra, che giocano bene, che fanno le ali, che possono fare la riserva di chiesa, questi sono. Quindi, se tu puoi prendere Kostic a 14 milioni, per dire, secondo me non è un cattivo acquisto, è un giocatore che comunque sta facendo bene da tanti anni. È normale che non ti prendi un top player, perché se ti devi prendere un top player, ti dico, vatti a prendere qualcun altro. Non ti prendi un top player, ma non ti prendi neanche un giocatore che è scarso. Raga, è una scelta che deve toccare alla società, devono cercare di capire con la società. Per me e per come la sto, diciamo, vivendo io, chiesa al 100% ci torna nella seconda parte della stagione. Perché comunque anche quando rientrerà e sarà parte della Juve, comunque chiesa 90 minuti subito nelle gambe non ce li ha. Quindi stati ben tranquilli che chiunque arrivi al posto di chiesa giocherà tanto. Questi sono infortuni che purtroppo ti danno poi problemi nella continuità. Io sono sicuro che lui tornerà come prima, ma ci vorrà un po'. E quando noi ci troveremo di fronte a... Bisognerà capire che bisogna trovare uno che vada a sostituirlo, chiesa. Capite cosa intendo? Bisognerà trovare qualcuno che vada a rimpiazzarlo, perché se tu poi non lo trovi e hai problemi nel trovare... E poi sono problemi vari, perché diventa poi complicato andare effettivamente a trattare un altro giocatore che sia comunque molto più grosso, molto più forte, eccetera, eccetera. Quindi, io volevo sapere da voi, volevo sapere un vostro commento. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi su questa situazione. Tra l'altro, la Juventus ha lasciato tanta gente in un po' di direttore a mettere, però la Juventus poteva tenere Bernardeschi. Beh, voglio dire, poteva tenere Bernardeschi, non è che tu, voglio dire, avresti risolto così tanti problemi. Cioè, Bernardeschi, la titolare, al posto di chiesa per due mesi, insomma, non mi sarebbe, non mi avrebbe fatto stare tranquillo. Ecco, oggi, fra un Bernardeschi e un Kostic, io ti dico tutta la vita Kostic, ma proprio sempre, eh, sempre. Poi, raga, ognuno ha le proprie visioni, ognuno ha le proprie versioni delle cose, però, e poi io mi devo mettere in piangere Bernardeschi, cioè, con tutto il rispetto, non credo che sia il momento adatto per farlo. Poi, se Bernardeschi nella sua prossima squadra, se nella prossima squadra Bernardeschi segnerà, ho gli occhiali che mi scendono, 40 gol, allora sarò qui e verrò a dire, ah ragazzi, abbiamo venduto Bernardeschi, abbiamo sbagliato a vendere Bernardeschi, sta cosa, però, per il momento non c'è niente, capito? Non c'è veramente nulla di cui rimpiangere. Poi, altra cosa, molto importante, non abbiamo giovani di livello in quella posizione. Tanta gente inutile che mi dice, no, mettiamo sule, mettiamo, ragazzi, serve uno con le spalle larghe, e lo diciamo per la quarantesima volta. i giovani vanno fatti crescere a fianco a quelli più esperti, non è che vanno lanciati nella mischia così se sbagliano due partiti di fila li prendiamo e li siurriamo. Eppure a me sembra una cosa così tanto ovvia che mi fa venire veramente, quasi urlo, voglio dire, a me sembra una cosa ovvia questa cosa qua che sto dicendo. Cioè, non possiamo, anche perché a sinistra dell'Under 23 io tutto a sta grande abbondanza, mettiamo Ake che può giocare pure a destra e a sinistra, ma Ake c'ha 23 anni e con tutto il rispetto possibile immaginabile. Insomma, io credo che Ake sia un buon giocatore tutto quello che volete, ma che io debba fidarmi di Ake e metterlo titolare nella Juve attuale mentre non c'è chiesa. Ragazzi, per cortesia, cioè, cerchiamo di ritornare sulla terra nel parlare di calcio in maniera normale perché non sta da scritto da nessuna parte che un giocatore del genere possa far titolare nella Juve. Cioè, è un buon giocatore ma attualmente non è a livello di far titolare nella Juventus. Diciamo, non è che qualunque persona che viene dall'Under 23 adesso la dobbiamo prendere e dobbiamo mettere titolare perché è giovane. In campo ci vanno quelli forti perché tu abbia 18 anni o 40 a me non interessa. L'importante è che tu sia forte. L'importante è la tecnica. Sempre la tecnica. Dal momento in cui sei forte vai in campo. Dal momento in cui non sei forte rimani in panchina. Tutto qui. Fatemi sapere.